Canicattì, sporcizia di servizi, crisi idrica, fioccano le segnalazioni dei telespettatori di Teleradio Canicattì da girare all'amministrazione comunale e in particolare al sindaco Ettore Di Ventura, molto attento al decoro urbano e all'assessore all'igiene Enzo Di Natani. Ieri abbiamo dato notizia del progetto di sistemazione della torre dell'orologio e questa mattina i residenti della zona hanno richiesto un intervento delle telecamere di Teleradio Canicattì per le condizioni di degrado in cui versa la piazza Castello. Qui gli operatori ecologici non si vedono ormai da mesi e la pioggia ha portato via un po' di spazzatura accumulata ai lati della strada. Anche l'ingresso della residenza dei Bonanno, almeno quel che resta del Castello, è pieno di erbacce e tenuto in condizioni di grande degrado. Ci siamo poi spostati di qualche chilometro alle spalle della via nazionale dove in prossimità del passaggio della ferrovia si trova una piccola discarica con materiale altamente inquinante e pericoloso come l'Eternit. In via Dosturzo un albero abbattuto dal vento fa brutta mostra di sé da almeno una settimana senza che nessuno intervenga per rimuovere il pericolo. Infine la crisi idrica che sta esasperando i cittadini. Stamattina abbiamo raccolto la segnalazione di un anziano che abita a San Biagio costretto a rifornirsi di acqua minerale perché da più di 20 giorni non arriva acqua nel suo quartiere. L'anziano canicatinese ha chiesto al comune se è possibile di attivare le autobotti di girgenti acque per attenuare i disagi. Grazie.